Cross a rientrare, ecco che arriva il cross di Alvarez sul secondo palo, attenzione, Luzio, 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 1-0 per l'Inter, il corno di Alvarez esce, malissimo, Gavolova, la palla finisce sul secondo palo e Luzio a porta vuota l'appoggia con il piatto destro, 1-0 per l'Inter, Luzione, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Lagatomo, Lagatomo, bravissimo, il trenare dalla destra, Pazzini, il pazzo, il pazzo, Pazzini, il pazzo, Pazzini, bravissimo Lagatomo, bravissimo Lagatomo che patune l'avversario in trenare dalla sinistra, tiro cross in mezzo, il pazzo arriva come il solito istinto killer e la mette dentro, il pazzo Pazzini. Barriera dell'Inter, foltissima, Alvarez, Pazzini, Luzio, Milito e Cambiasso, siamo a 21 metri di distanza, quindi vicinissimi, parte Zagojev con il destro e il tiro! No, no, Giulio non dire niente, Giulio ha fatto la pigra. No, no, Giulio non possiamo dai calci d'angolo ogni volta avere l'occasione per loro, con il lancio lungo. Ah, attenzione a queste c***ate, cambia. No, sta lì dietro! Con Giuda, dai! Vai sulla palla, Alvarez! Vaffa*****o, sca*****o! Scona, era nell'aria arrivato, fa esso! No, però adesso te lo spiego il gol. Allora, gol di Wagner Love, che ha fatto quello che voleva in area di rigore, però si capiva lontano un miglio, perché Alvarez era, adesso io non voglio prendermela con lui, ma in questo caso è clamoroso, perché era a due metri dall'uomo e per cinque minuti lo ha guardato. Senza provare l'affondo, senza provare il pressing, senza provare a dargli fastidio, non va bene, ce l'hai lì a un metro. Allora, dobbiamo recuperare la pubblicità, ma torneremo subito, quindi rimanete con noi a tra pochissimo. Sì, lui si è sbagliato. Aspetta, aspetta, aspetta. Maurito, 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 Maurito 3 a 2! 3 a 2! 3 a 2! 3 a 2! Quante emozioni! Avete capito una cosa? Avete capito una cosa? L'interritorno prima! Allora, bellissimo!